Esiste davvero l'intolleranza o, come più propriamente si dovrebbe dire, la sensibilità al glutine? Ciao a tutti, io sono Dario Bersanini e questo è il mio canale dedicato alla scienza di ciò che mangiamo. La domanda che vi ho posto è la domanda su cui la comunità scientifica si sta interrogando negli ultimi anni. Cominciamo subito con chiarire che non stiamo parlando di celiachia, la celiachia è una malattia a base genetica ben nota, esiste, non c'è assolutamente nessun dubbio, colpisce circa l'1% della popolazione, si può identificare facendo per esempio un'analisi, una biopsia dell'intestino e vedere come è stato danneggiato dal glutine. Infatti per i celiaci il glutine è il male assoluto, non devono ingerirlo in alcun modo perché danneggia permanentemente l'intestino con delle conseguenze anche gravi. Il glutine è, per chi non lo sapesse, una sorta di complesso proteico, un insieme di proteine presente in molti, molti vegetali come per esempio il frumento, il farro, il camu contiene tanto glutine quanto il grano duro anche se molti pensano che non contenga glutine. Negli ultimi decenni però è aumentato sempre di più il numero delle persone che pur non essendo celiache, cioè pur risultando negative al test genetico e all'analisi dell'intestino, lamentano gli stessi tipi di sintomi, cioè lamentano dolori, diarrea, costipazione. Se andate nei supermercati trovate delle sezioni intere ormai di cibo senza glutine e nelle librerie trovate libri dedicati alla cucina senza glutine. Si è creato quindi un mercato che è molto superiore a quello dei celiaci. All'inizio la comunità scientifica era abbastanza perplessa e si pensava che non esistesse alcun tipo di intolleranza al glutine che non fosse la celiachia, ma vedendo l'aumentare notevole delle persone che invece sostenevano che seguendo una dieta senza glutine avevano dei miglioramenti nel loro stato di malessere, che è in dubbio, nessuno nega ovviamente il malessere di queste persone, alla fine tra il 2011 e il 2012 si è arrivati a una definizione di questa nuova patologia che è stata chiamata sensibilità al glutine non celiaca. È però una malattia dai confini molto sfumati, proprio perché non esiste un test diagnostico che possa effettivamente, come nel caso della celiachia, dimostrare che una persona è sensibile al glutine. Ci si basa solamente sui sintomi e sul malessere dichiarato dalle persone. Quindi, pur essendoci un nome a questa patologia, i suoi confini sono stati fin dall'inizio abbastanza sfumati. Tant'è vero che due studi, due differenti studi successivi a questa nuova definizione, quindi due studi tra il 2013 e il 2015, hanno subito gettato una sorta di ombra su questa malattia. Uno studio è avvenuto in Australia e l'altro è avvenuto a Pavia, li abbiamo raccontati nel libro Contro Natura e questi due studi sostanzialmente mostravano che almeno una grande parte delle persone che sostengono di essere intolleranti al glutine, pur non essendo celiache, in realtà non avevano nessun tipo di problema con il glutine. Questi studi sono ancora preliminari, coinvolgono poche persone per cui non si possono trarre conclusioni troppo generali, ma di sicuro mostravano che le persone che, pur non essendo celiache, avevano una reazione simile al glutine erano molte, molte di meno di quelle che invece effettivamente decidono ogni giorno di passare a una dieta senza glutine, magari perché hanno seguito i consigli di un sito web, di un forum su Facebook o di qualche celebrità come Guine del Patro. Questo video è una sorta di aggiornamento rispetto a quello che vi abbiamo raccontato in Contro Natura perché nel frattempo, dopo la pubblicazione del libro, è uscito un terzo studio effettuato a Brescia in cui si va a indagare se effettivamente la sensibilità al glutine esiste davvero e in quale misura. Quindi adesso vi vado brevemente a raccontare questo studio. L'articolo inizia ricordandoci che allo stato attuale delle conoscenze non sappiamo se sia veramente il glutine che scatena la cosiddetta sensibilità al glutine. Questo crea molta confusione perché si è dato il nome che contiene la parola glutine ad una malattia anche se non sappiamo se effettivamente il glutine è coinvolto e in modo. Nessuno di noi in realtà mangia solamente glutine per cui se noi togliamo il glutine dalla nostra dieta in realtà stiamo togliendo tantissime altre cose e in effetti alcuni studi precedenti ipotizzavano che fossero altri componenti del frumento ma non il glutine a essere responsabili per le reazioni di malessere intestinale di molte persone che non risultano assolutamente celiaci. L'articolo prosegue ricordandoci che il numero di persone che seguono ora una dieta senza glutine è molto superiore al numero di persone che hanno una diagnosi di celiachia e questo sta diventando un problema clinico perché queste persone possono per esempio essere sensibili ad altre sostanze presenti nei cibi che noi mangiamo ma se decidono autonomamente di seguire una dieta senza glutine in realtà non scopriranno mai quello a cui sono sensibili e che scatena i loro sintomi. Per questo studio sono state reclutate 35 persone che erano state in precedenza pazienti degli spedali civili di Brescia per problemi intestinali che avevano iniziato autonomamente a seguire una dieta senza glutine da almeno sei mesi. Lo scopo di questo studio era verificare attraverso i sintomi di queste persone se queste persone fossero in grado di distinguere la la presenza di glutine all'interno di un alimento confrontato con invece lo stesso alimento ma senza contenere glutine. Il tipo di studio è di quelli denominati in doppio cieco cioè le persone non dovevano sapere se l'alimento che stavano mangiando conteneva o meno glutine e per essere ancora più sicuri che non ci fossero interferenze nello studio neppure gli sperimentatori neppure i medici dovevano sapere fino alla fine dello studio che cosa avevano assunto questi pazienti. Questi pazienti sono stati divisi in due gruppi e il tipo di studio prevedeva quello che si chiama un challenge cioè si doveva dare ad ogni paziente un sacchettino che poteva contenere o farina senza glutine oppure farina con glutine ma visivamente non era possibile distinguere. Si sfidava il corpo quindi c'era la challenge come si dice a interagire con un alimento di cui non sapevano la composizione. Questi questi pazienti erano stati istruiti a tenere un diario alimentare molto dettagliato a casa e dovevano segnalare ogni giorno scrivere dettagliatamente su un diario anche tutti i vari sintomi che provavano durante la giornata che potevano essere per esempio dolori intestinali nausea vomito diarrea e così via. Per i primi dieci giorni dovevano ogni giorno aprire il sacchettino per esempio A e metterlo o sulla pasta oppure sulla minestra su quello che consumavano. Non sapevano se stavano mettendo farina senza glutine oppure farina con glutine. Alla fine di questi dieci giorni è seguito un periodo di due settimane in cui sono ritornati alla loro abituale dieta senza glutine. Nell'ultima fase dovevano usare per altri dieci giorni il sacchettino di tipo B. Coloro che all'inizio dello studio nei primi dieci giorni avevano utilizzato farina con glutine avrebbero usato nella seconda fase di challenge la farina senza glutine e viceversa. Alla fine dello studio ogni persona doveva rispondere a questa domanda. Secondo voi era la farina A oppure la farina B che conteneva glutine? Cosa si dovevano aspettare i ricercatori da questo studio? Beh prima di tutto se davvero le 35 persone che sono passate la dieta gluten free fossero davvero sensibili al glutine avrebbero dovuto tutte identificare la farina con glutine perché avrebbero dovuto avere dei sintomi molto più gravi che non invece assumendo farina senza glutine. Se invece alcune persone pensano di essere sensibili al glutine ma in realtà sono magari sensibili ad altri componenti del frumento o della farina senza glutine che contiene altre cose beh allora ci dobbiamo aspettare che solamente una piccola parte di queste persone riesca a identificare correttamente la farina col glutine. Si deve poi comunque tenere presente che c'è sempre l'effetto del caso cioè le persone possono anche scegliere in modo casuale e per cui mai questo tipo di test con un numero così piccolo di partecipanti riesce a identificare perfettamente coloro che hanno indovinato correttamente in base ai loro sintomi. Scrivono abbiamo trovato prove dal nostro studio che supportano la diagnosi di sensibilità al glutine non celiaca in solo un terzo dei pazienti che rispondono ai criteri internazionali per questo tipo di diagnosi. Tuttavia due terzi dei partecipanti non sono stati capaci di identificare correttamente la farina che contiene il glutine. Adesso si possono apparire sorprendenti per alcuni ma in realtà sono in linea con gli esperimenti e gli studi che ho citato in precedenza. Le spiegazioni di questo comportamento non sono chiare. Ci può essere una sensibilità a delle componenti della farina oltre al glutine. Questo era già stato verificato nello studio australiano in cui si erano identificati dei carboidrati presenti nel grano ma non solamente nel grano che potevano dare questo tipo di reazioni. Ora queste sostanze sono collettivamente note come FODMARX. E' importante definire esattamente lo stato clinico di questi soggetti perché solamente le persone che sono sensibili al glutine e non ad altre sostanze hanno la necessità di seguire una dieta gluten free. Un'altra possibilità è che ci sia almeno in parte quello che si chiama un effetto nocevo. Cioè le persone che pensano di mangiare qualche cosa che li può danneggiare, li può far starmare, in realtà scatenano a loro stessi una reazione di questo tipo. Scrivono i ricercatori, il nostro studio suggerisce che i sintomi che queste persone provano quando vengono esposti a cibo contenente il glutine durante la loro vita di tutti i giorni è in realtà collegato a un aspetto psicologico di anticipazione dell'intolleranza. Quindi sembra essere un effetto nocevo e i fattori emotivi e soprattutto la, dico io, la pressione commerciale può essere un evento importante in questi pazienti che subiscono in qualche modo la pressione commerciale e l'anticipazione della risposta negativa del loro corpo. Coloro che sono sensibili ad altre sostanze oppure che subiscono l'effetto nocevo non hanno alcun bisogno di escludere il glutine dalla loro dieta. È interessante anche notare come il 17% dei soggetti che hanno partecipato all'esperimento di Brescia in realtà durante l'esperimento non abbiano subito alcun tipo di sintomo negativo né assumendo la farina col glutine, né assumendo la farina senza glutine. È ovvio che queste persone non hanno alcun bisogno di seguire una dieta senza glutine che, ricordiamo, se non fatta correttamente può essere anche alquanto sbilanciata. Insomma, allo stato attuale delle conoscenze pare che solamente una minoranza delle persone che si autodiagnosticano una sensibilità o intolleranza al glutine non celiaca abbia veramente un problema con il glutine. La maggior parte delle persone o è sensibile ad altre sostanze presenti nella dieta oppure subisce un effetto nocevo. Per questa volta abbiamo finito, se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale fatemi sapere nei commenti se vi interessa che faccia altri video di questo tipo o se magari volete che vi racconti più nel dettaglio i due studi che abbiamo citato già varie volte di cui abbiamo parlato nel libro Contronatura in cui si racconta meglio che cosa sono per esempio questi FODMAPS. Per questa volta vi saluto, ciao a tutti!